Oggi è una grande vittoria, oggi è una grande vittoria che qualcuno non osi e non si azzardi dire che il Bologna non sia una big. Ragazzi in questo momento il Bologna è sesto, è a tutti gli effetti una big, quindi finalmente posso dire che abbiamo vinto contro una big. Questo chiedevo, perché non è possibile che ogni volta che incontravi una big prendevi pisellate in faccia da tutti, da tutti, tutti. Anche una squadra come Napoli che in questo momento perderebbe pure contro l'Empoli, ok? E non siamo riusciti comunque a vincere contro Napoli, siamo riusciti anche a vedere Ozyman che ci palleggiava in area di rigore e che faceva il giocoliere. Ma questa è un'altra partita. Finalmente, finalmente aggiungerei. Da cosa bisogna partire? Bisogna partire dal fatto che Ranieri complimenti a Claudio Ranieri per la tattica vincente, perché oggi non gli si può dire nulla. Magari per qualche partita bisognava dire più di una cosa a Ranieri e alle scelte di Claudio Ranieri. Però oggi, che cosa gli puoi dire? Oggi l'ha sbancata lui, perché ha sfruttato il fatto che, tra l'altro, con Zirk Zee, se c'era Nedved, se c'era Zirk Zee adesso, scherzi a parte, la partita secondo me sarebbe andata in maniera diversa, perché Zirk Zee è forte, è forte. E tra l'altro, non avendo un attaccante, cioè un vice Zirk Zee, il Bologna si è trovato senza riferimenti là davanti. Questo ci ha facilitato un po' nelle marcature, ci ha facilitato un po' per l'ordine e l'equilibrio difensivo che abbiamo avuto in generale in tutta la partita, a parte il gol di Orsolini che poi andremo ad approfondire. Però bisogna dire che il Cagliari è rimasto molto compatto, la tattica di Ranieri si è rivelata efficace, ovvero, adesso vi leggo le statistiche, ma infatti non mi sbagliavo, due tiri in porta, ragazzi, due tiri in porta, cioè il Cagliari due gol e con due tiri in porta. Significa che la tattica di Claudio Ranieri era quella di difendersi e di non far segnare il Bologna, perché poi il Bologna è una squadra che gioca bene, è una squadra che ha quasi sempre in mano il palino del gioco, e quindi l'obiettivo era lasciare il palino del gioco, però cercare di rimanere compatti difensivamente e concentrarsi molto. E la concentrazione infatti ha aiutato tantissimo, perché poi non abbiamo subito il gol del 2-2 e siamo riusciti addirittura a vincere questa partita, siamo riusciti a vincere contro una big, ed è quello che ci mancava rispetto alle altre contendenti per la salvezza. Perché noi per carità abbiamo fatto i nostri pareggi, abbiamo fatto le nostre vittorie, però ogni volta che c'era una big facevamo prima mettere la primavera, perché tanto perdevamo comunque, almeno i nostri titolari si riposavano in qualche modo. Finalmente, ragazzi, è arrivata questa vittoria anche in casa, mi dispiace tantissimo non essere andato allo stadio, purtroppo non potevo per svariati motivi, però sono contentissimo di averla comunque seguita a casa. Partiamo da Nandez, perché bisogna parlarne nel bene e nel male, in questo caso ne parliamo nel bene, perché l'altra volta ne avevo parlato nel male, ha giocato una buona partita Nandez. Certo, non come gli standard di Nandez, perché da Nandez mi aspetto molto, ma molto di più, però ha disputato una buona partita e ha aiutato assolutamente la squadra. Poi i telefonisti l'hanno esaltato un po' troppo, non è una parità da 8, ma sicuramente è una parità da almeno 6,5-7. Detto questo, anche Vietesca, bisogna soprattutto elogiare Vietesca, perché era forse la prestazione più inaspettata tra gli 11 titolari, perché poi anche lo stesso inserimento di Vietesca nell'11 titolare mi ha sorpreso alquanto. Perché non mi aspettavo innanzitutto che togliesse Golda Niga e soprattutto se avesse tolto Golda Niga, cosa che poi è avvenuta dalla formazione titolare, mi si è rispettato più Naziriakos, che ha giocato molte più partite di Vietesca. Invece poi si è rivelata una copiata vincente, Dossena-Vietesca, che hanno giocato tutti e due molto bene. Vietesca, ripeto, contro le mie aspettative, ha giocato benissimo e sono contento. Speriamo che si diano una svegliata sia l'uno che l'altro in panchina con la 17. Poi la difesa ha giocato in generale benissimo, anche Scufetta ci ha salvato diverse volte. L'unico che non riesco a capire è Ugello, ragazzi. Il gol di Orsolini non riesco a capirlo, cioè è un errore quasi da principiante. Va bene tutto la giocata di Orsolini, però è proprio che neanche nei pulcini riescono a saltare così un difensore. Infatti poi l'ha tolto dopo 45 minuti, nel secondo tempo è entrato Azzi che ha giocato 100 volte meglio di Ugello. Ma come tantissime altre partite, quindi non capisco se sia arrivato il momento di togliere Ugello dalla formazione titolare, così magari si dà una svegliata vedendo che si siede in panchina. Oppure effettivamente è Azzi il nostro titolare, ok? Non serve questa mossa solamente per svegliare Ugello e poi inserirlo dopo poche panchine che gli spetterebbero dopo queste prestazioni. Adesso bisogna vedere, bisogna valutare, però io penso che così non si possa continuare. Perché Ugello non è la prima, non è neanche la seconda e non è neanche la terza volta che fa partite di questo tipo. È forse l'unica nota suonata del Cagliari oggi. Perché, ripeto, poi Ranieri stesso se ne ha accorto e l'ha tolto dopo il primo tempo, l'ha tolto nell'intervallo, meritatamente. Poi ragazzi, centrocampo mi è piaciuto, molto solido, molto compatto, molto equilibrato, ma con Buprati sulle mana. Poi formazione un po' insolita, ve l'avevo mezzo pronosticata, non è stato proprio un 4-5-1, ma più o meno ci siamo. È stato un 4-3-2-1 con Petagna unica punta e Petagna unica punta, lasciatemi dire, che funziona alla grande. E lo sapevo, lo sapevo. Quindi Ranieri, assumimi come vice allenatore che portiamo il Cagliari al decimo posto, perché ormai la Conference League non è alla nostra portata. Però ci siamo, per la metà classifica ci siamo Claudio. Quindi chiamami pure. Detto questo, Petagna unica punta, funziona. Funziona perché fa salire la squadra, fa delle sponde eccezionali, gioca e lotta con quel fisico da cinghiale che ha. Ecco, il cinghialone è altare, non c'è più, adesso il cinghialone è Petagna. Mio fratello Petagna è un giocatore sontuoso. Ha segnato e ha procurato pure l'autogol del 2-1 di Calafiori. Quindi, un giocatore sontuoso, ragazzi. Oggi la partita l'ha svoltata lui, l'ha deciso lui, anche a livello difensivo, soprattutto. È stato assolutamente importante il suo apporto difensivo. Che poi solitamente una punta se ne sta lì per i fatti suoi, intanto che gli altri nove fanno la sportellata per cercare di non far andare la squadra avversa in area di rigore. Un po' la Zlatan Ibrahimovic, no, che se ne sta così. Quindi, bello, tranquillo, si prende la sdraio fino a quando non gli arriva il pallone e poi la butta dentro. Invece Petagna è un giocatore totalmente diverso da un giocatore alla Ibrahimovic. Ecco, Petagna ha aiutato tantissimo a livello difensivo. E per questa partita, per quello che chiedeva questa partita, è stato importantissimo avere un giocatore come Petagna in campo. Poi hanno avuto, per carità, i loro spazi anche di Pardo, Ianto, De Jola, Pavoletti. Ma è la prima volta che mi sento di dire, Ranieri, hai fatto... Beh, ma anche... Vabbè, sono un po' da paraculo questa cosa perché effettivamente il risultato dà ragione a Ranieri in questo caso. Però, veramente, è la prima volta che mi sento di dire, Claudio Ranieri finalmente ha fatto bene a fare la solita cosa che fa, ovvero fare i cambi dopo 100 anni, perché erano talmente concentrati, talmente preparati i giocatori che sicuramente non se la sentiva di cambiare carta in tavola perché doveva farlo il Bologna soprattutto. Non dovevamo farlo noi che eravamo a livello massimo della nostra concentrazione. Poi quando giocatori come Nandez che hanno speso e corso abbastanza in campo non ce l'avevano più, allora era giusto fare i giusti e dovuti cambi. E niente, per il resto complimenti a Ranieri, complimenti a Petagna e complimenti al fatto che Zirkzee è mancato. Queste sono state le nostre tre ricette per questa vittoria di oggi, perché è stato importantissimo anche il fatto che non ci fosse Zirkzee, perché praticamente il Bologna affida tutto a lui. In questa stagione abbiamo visto così. Certo, ci sono giocatori importanti come Ferguson e via dicendo, però anche lo stesso Calafiori che è uno dei giocatori più importanti del Bologna quest'anno diciamo che ha voluto un po' tradire la sua squadra oggi, meglio per noi. Ci vediamo con i prossimi contenuti. Ciao ragazzi, forza Casteldu sempre!